ragazzi dopo tantissimo tempo finalmente eccomi qui col mio iphone 10 che dire innanzitutto volevo specificare che questo iphone l'ho comprato tramite un gruppo di girada che ha creato un mio amico se volete anche voi acquistare qualcosa su girada io vi consiglio di entrare nella nostra lista che funziona veramente veramente bene che vi lascio il link qui sotto nella descrizione mi raccomando andate a visitarla se dovete comprare qualcosa 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 entrano assolutamente nella nostra lista perché la nostra lista ragazzi funziona che è una meraviglia poi c'è avuto questo iphone in tempo un mese per tutti quelli che si stessero chiedendo come funziona girata ragazzi basta che entrate nel gruppo telegram che vi lascio il link qui sotto nella descrizione il gruppo girada vip e lì vi forniranno appunto un bot cioè un assistente personale che vi fornirà tutte quante le informazioni possibili su come funziona girata su come acquistare come invitare gli amici eccetera eccetera comunque non mi va di dilungarmi perché voglio assolutamente aprire con voi oggi questo iphone che ho appena rotto e ragazzi voi non potete capire quanto sono emozionata perché è un sacco di tempo che aspetto questo nuovo telefono allora io già lo vedo ed eccolo qua cioè guardate cioè raga io devo dire ero un pochino scettica sul fatto di girada però oh mio dio oh mio dio ma l'hai visto? bellissimo è figata no ragazzi sono troppo con... cioè guardate io ho preso l'iphone 10 da 256 gigabyte e l'ho pagato tipo 450 euro cioè ragazzi ho aspettato un mese e mezzo però ne vale la pena cioè mamma vale la pena spendere 450 euro per un iphone 10 quindi ultimissimo uscito 256 giga quindi ragazzi mettete tutto è valuta la pena aspettare un mese e due ragazzi perché veramente merito cioè guardate vi do anche la prova vedete 256 giga vediamo se riesco a mettervelo a poco sono qui 256 giga il nostro iphone assolutamente vero ancora nell'imballaggio andiamo immediatamente ah aspettate sentiamo il rumore ragazzi il rumore quello bellissimo ah quando apri una cosa nuova mamma mia ragazzi sono troppo sono troppo contenta cioè è emozionante perché cioè non sembra vero cioè guardate adesso andiamo ad aprirlo insieme oh ok ma ragazzi c'è il nostro rivetto ed ecco qua il nostro iphone oh mio dio ragazzi io l'ho voluto prendere nero perché in precedenza quando avevo l'iphone 5 ho preso appunto l'iphone bianco non mi è piaciuto per niente infatti come potete vedere io ho anche l'iphone 7 nero come potete vedere no raga è bellissimo cioè adesso sinceramente non mi interessi quelli che dicono ah ma il design è fatto male ah ma almeno io ragazzi lo amo io lo amo proprio lo amo perché innanzitutto è a tutto schermo guardate siamo anche noi guardate che ah ma guardate bello è impegata raga io non so non lo so sono un sacco emozionata perché cioè non mi sembra vero cioè per farmi capire l'ho pagato così poco eppure l'ho ricevuto cioè è bellissimo ragazzi sono troppo felice comunque all'interno della confezione ci sono delle cuffiette ci sono delle cuffiette appunto quelle lì con l'adattatore perché come sapete già dal modello dell'iphone 7 non si possono più mettere le cuffiette come potete vedere come potete ben vedere qui però non riesco a farvelo vedere aspettate forse riesco vabbè ragazzi vedete che tipo non c'è non c'è un'entrata non c'è l'entrata per il jack però io ho le airpods quindi sono le cuffiette quelle già bluetooth dell'apple quindi sto a posto poi dentro abbiamo un carica batterie appunto una presa ue 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 un messaggio un carica batterie e niente la scatola finisce così ragazzi la scatola è diversa prima si poteva togliere guarda adesso è fisso comunque raga madonna ah puoi portarmi la scatola che mi è arrivata oggi? ricata è bellissimo mamma mia bel regalo di natale battiamo il mito che dicono che girata è una sola esatto ragazzi girata funziona cioè come potete vedere a me è arrivata la roba cioè vi sono andando proprio la prova davanti ai vostri occhi però ho voluto scartare così perché poi diceva eh no tu l'hai comprato poi hai fatto la sponsor a girata a parte ragazzi questa non è una sponsor a girata assolutamente posso anche dire che girata fa schifo per farvi capire che non è uno sponsor però ragazzi veramente cioè girata funziona molte persone sono scettiche ma come lo ero io però ho detto vabbè buttiamoci proviamo ci ho provato ragazzi e come potete vedere eccoci qua col nostro iphone io ragazzi già mi sono acquisita dei gadget per il mio iphone ho comprato questa custodia qui che è completamente trasparente però è tipo una di quelle custodie super protettive che quando è gas cargante si romperà mai almeno spero poi sto iphone lo terrò come se fosse appunto il mio bambino penso occhio esatto adesso ve la faccio anche vedere qua qui è una cover normalissima che ho voluto prendere appunto perché non volevo rovinare il design del nostro iphone mamma mia come sono come sono poi abbiamo invece il nostro vetro protettivo che è appunto proprio un vetro non è una pellicola è proprio un vetro protettivo che è questo qui ragazzi tutto quanto che dopo metto bene bene lì a metterlo c'è questo piccolissimo dischetto che qui si collega con l'entrata appunto del jack esatto qui col jack con l'entrata usb che si collega poi ad una spina e per ricaricare il nostro iphone ragazzi basterà soltanto appoggiarcelo sopra in questo modo e l'iphone si ricaricherà cioè che strafigata cioè senza che devi mettere l'acqua i cavetti eccetera eccetera alla fine questo qui diciamo che lo uso però manco tanto alla fine perché se ho sto coso non mi serve a niente quello basta che questo qua ce l'appoggio sopra e si ricarica comunque io andrei al momento dell'accensione perché questa è la cosa che si aspettano tutti quanti vediamo se si può accendere oppure è scarico ok si sta accendendo ragazzi il nostro iphone si sta accendendo 6 5 4 eccolo qua eccolo qua ragazzi hello mamma mia guardate cioè guardate il nostro iphone ragazzi io credo che questo iphone sia veramente una cosa pazzesca iphone a tutto schermo cioè come dire tutto schermo ragazzi guardate tutto 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 schermo ok innanzitutto andrei a selezionare la lingua italiano ok se possiede un iphone un ipod con un ios 11 avvicinare per eseguire l'accesso automaticamente ah così ragazzi si possono trasferire anche i file semplicemente avvicinandoli che strafigata comunque ragazzi adesso inizializzo un secondo e poi torno immediatamente da voi fatemi un attimo fare questa cosa e torno subito ragazzi io e valerio anzi io io ti sto smontando camera abbiamo appena provato a fare una foto aspetta fammi mettere io voglio un appello è normale che mentre io la madre e un nostro amico smontiamo la sua camera per fare la nuova lei fa l'unboxing dell'iphone non è normale c'è te vi danno a mano comunque ragazzi tutto l'iphone adesso me lo sto sistemando per bene e boh è veramente fantastico valerio un'opinione ha veduto in cio live comunque tutto questo ragazzi vi lascio qui sotto in descrizione quello è mio ma il mio è un 8 è un 8 è un 8 ragazzi mi raccomando se volete acquistare l'iphone o qualsiasi cosa passata dal gruppo telegram di girata che vi lascio qui sotto in descrizione girata vip mi raccomando acquistate le entrate mi raccomando mi raccomando ragazzi seguite tutti i ultimi social guardate in questa descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video video